Ora inizia a essere veramente un qualcosa di bello vedersi così in alto, però dobbiamo rimanere sul pezzo a fare queste sette finali che sono veramente importanti. Sabato contro la Reggiana, ci sarà un po' di tensione come si è potuto vedere col San Marino? No, tensione, dubito che sia tensione, ma non l'ho mai vista in tutto l'anno io la tensione, però sicuramente non c'è paura, ma c'è rispetto per una grande squadra in un grande stadio che punta la promozione diretta e andremo a giocarci. Negli spogliatoi tra di voi cosa si dice? Si dice che mancano sette finali, che ora c'è la prima finale che è la Reggiana, che va affrontata una partita alla volta, che bisogna scendere in campo con tanta fame, tanta cattiveria e voglio di arrivare. Comunque già contro la Reggiana avete vinto? Abbiamo già vinto in casa, però ogni partita sa. Gioca un calcio molto più pulito, è un'ottima squadra e andremo a giocarci. Troveremo un'atmosfera da serie B minimo, perché comunque ci giochiamo tanto in uno stadio da serie A, perché ci gioca il Sassuolo, che vinca il migliore. Per noi sono sette finali, a partire da Reggio.